Il nuovo presidente della FIDAPA BPW Sezione Agropoli e l'avvocato Benedetta Sirignano, la solenne cerimonia di passaggio di carica, è avvenuta la scorsa settimana in presenza di tutte le associate, nella quale il past president dello scorso bienio, l'avvocato Francesca Di Genio, ha simbolicamente passato il testimone all'avvocato Sirignano. La FIDAPA BPW Italy, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, è un'associazione composta in Italia da circa 11.000 socie ed appartiene alla federazione internazionale International Federation of Business and Professional Women. È un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti. Sono onorata di presiedere la FIDAPA. Dietro questa federazione c'è una visione della femminilità vista come energia vitale, come una forza dirompente. Dichiara la neoeletta presidente Benedetta Sirignano, il nostro intento sarà a veicolare messaggi a sostegno dei più deboli, di chi si trova in difficoltà, cercare in ogni individuo di diventare prossimo. Benedetta Sirignano è nota penalista che esercita la professione tra Agropoli, Salerno e Roma. Per la sua esperienza nel settore è stata più volte ospite in trasmissioni televisive, rassegne culturali, festival del cinema ed è relatrice in convini universitari, corsi di aggiornamento professionale, master in scienze forenzi.